Nel fine settimana sulla regione non avremo perturbazioni, però affluirà aria piuttosto mite e molto umida dal Mediterraneo per cui prevarrà la nuvolosità e il cielo coperto. Per sabato cielo coperto su tutta la regione con delle deboli piogge più frequenti sulle zone orientali dove potrebbero anche essere persistenti e nel complesso della giornata di intensità moderata. Quota neve intorno ai 1500 metri per cui avremo delle deboli nevicate in particolare sulle prealpi giulia ad alta quota. Temperature minime piuttosto alte intorno agli 11-12 gradi sulla costa 8-9 per quanto riguarda la pianura, zero termico a 2000 metri circa. Per la giornata di domenica cielo coperto con piogge deboli o moderate, temperature minime anche qui piuttosto alte per la stagione 11-12 gradi sulla costa 8-10 sulla pianura, zero termico a 2000 metri circa. Spruzzate di neve in montagna oltre 1500 metri circa, sulle prealpi la quota neve sarà più in alto intorno ai 1700-18 e le precipitazioni potranno essere più abbondanti. Tra lunedì e martedì passerà un intenso fronte proveniente dall'Africa che porterà piogge intense, specie sulla fascia prealpina e forti nevicate ma in alta montagna oltre 1500 metri circa. Da mercoledì miglioramento. Dall'Osservatorio Meteor Regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.